Il copywriting ha risposta diretta, una preziosa specializzazione per lavorare nel mondo del digital marketing e della vendita. Chi è e cosa fa il Direct Response Copywriter? L'obiettivo del Direct Response Copywriter è creare contenuti ed esperienze che guidino le conversioni in modo chiaro e semplice. Un copywriter efficace non solo è in grado di creare post sul blog, ma comprende come fare marketing tramite Google Ads, newsletter e post sui social media. Attira l'attenzione, suscita interesse e risveglia bisogni e desideri tramite sales page, email, advertising, grazie a tecniche di copywriting atte a ricevere più conversioni e vendite. Quali competenze acquisirai durante il corso? Imparerai ad analizzare il mercato, il prodotto e le buyer personas a cui si rivolge la comunicazione di marketing. Ti occuperai anche di Google Ads, newsletter e post sui social media, così come di storytelling, strategie SEO e analisi delle keyword per la creazione di copy diretti all'indicizzazione sui motori di ricerca. La certificazione Direct Response Copywriting di Digital Coach fornisce la giusta preparazione per chi vuole lavorare come professionista ed intraprendere una carriera da copywriter. Il master prevede lezioni in oltre 30 discipline ed esercitazioni interattive in diretta online, 100% di pratica operativa, zero slide, zero teoria, puro learning by doing. Le lezioni si basano sul noto metodo didattico Digital Coach, un metodo che mette al centro dell'apprendimento le metodologie di formazione esperienziali, ovvero una didattica che parte dall'esperienza per generare. Imparo se faccio, non se mi limito ad ascoltare. Sono sessioni 100% di pratica della durata di un'ora, ma non basta, prevediamo anche delle sessioni di Q&A, domande e risposte dal vivo con i docenti ed esperti. Oltre alle lezioni teoriche, avrai la possibilità di accedere ad un praticantato reale della durata di quattro mesi, in cui misurarti con il lavoro operativo e mettere in pratica quanto appreso durante il corso di copy a risposta diretta. Sostenendo un esame finale, potrai testare il tuo livello di preparazione e ottenere la certificazione di competenza e di frequenza riconosciuta dalle più importanti aziende digitali, tra cui Google. A chi si rivolge il corso per diventare copywriter? Ai giovani neolaureati, a chi vuole specializzarsi e certificarsi per una professione, quella del copywriter specialist, sempre più richiesta, ma anche ai freelance, lavoratori autonomi interessati a posizionarsi come liberi professionisti copywriter, offrendo i propri servizi ad aziende o attività. I vantaggi offerti dal master sono formazione di taglio internazionale, colloquio di orientamento e test di ingresso effettuabili online, lavoro, pratica, studio, tutto in contemporanea. Ora che hai tutte le informazioni sulla nostra certificazione Direct Response Copywriter, non devi far altro che compilare il form che trovi al link e verrai contattato da un nostro coach di carriera, a cui potrai rivolgere tutte le domande che vuoi. Voglio chiudere questo video con una frase di Confucio. Se mi dai un pesce, io per oggi sarò sazio, ma se mi insegni a pescare, io non avrò più fame. Ed è proprio questo che facciamo in Digital Coach. Mettiamo tutta la passione per trasmettere ai nostri studenti le migliori competenze per lavorare ed essere individui.